Siamo qui per scoprire il segreto di Brutus e direi 3, 2, 1 andiamo a parlarci, vediamo il dialogo segreto Oh mio Dio! Ragazzi oggi siamo qui per andare a scoprire i dialoghi segreti di Brutus e ci andremo con la skin di Mida ragazzi per vedere che cosa ci dirà Se ci dirà che ha aperto la grotta, ha trovato una chiave per aprirla o se ci dirà qualcosa di strano raga Perché come sapete da questa stagione i personaggi sulla mappa hanno dei dialoghi segreti raga Quindi andremo a scoprire tutti quanti, mi raccomando lasciate un bel mi piace e iscrivetevi che siamo quasi 100.000 iscritti Manca davvero pochissimo raga Quindi che aspettate, cliccate il tasto iscriviti e lasciate un bel mi piace Buttiamoci direttamente in partita Ma prima di iniziare ovviamente non potevo non mandare la richiesta ad uno di voi che ha spammato qui sotto nei commenti il vostro ID L'ha spammato davvero tantissime volte quindi si merita l'amicizia Si è iscritto al canale e ha lasciato un bel mi piace Quindi Bazzuga ti merita l'amicizia Complimenti bro, fate tutti come lui se volete anche voi l'amicizia Ah e ovviamente dimenticavo il codice l'olivo nello shop e non ve lo dimenticate Ragazzi mi dà il carichissimo per andare a scoprire tutti quanti i segreti di brutus Ma prima raga fatemi sapere qui sotto nei commenti se voi siete curiosi riguardo a questi segreti di fortnite Perché almeno a me raga incuriosiscono un casino Ogni volta che esce un segreto devo andarlo subito a scoprire raga e informarvi a tutti Perché non vedo l'ora di sapere se effettivamente è vero quel segreto raga Non vedo l'ora infatti che escano altri segreti di fortnite ragazzi per portarveli sul canale E parlarne insieme a voi, fatemi sapere se vi piace l'idea E tra l'altro vi ricordo che a 100.000 iscritti vi dovrò dare due annunci importantissimi raga Quindi mi raccomando arriviamo a 10.000 iscritti e ci saranno due sorprese Adesso però caro Mida è il tuo momento di andare a scoprire i dialoghi segreti del boss brutus Che si trova in teoria a molli molesti Adesso non sono così sicuro che si trovi a molli molesti Ma in teoria dovrebbe essere lì Tutto al più ci facciamo un'altra partita dopo Però penso sia a molli molesti ragazzi Brutus che per chi non lo conoscesse ragazzi Penso sia difficile non conoscerlo È praticamente il boss della grotta raga Grotta che c'era nella stagione 2 del capitolo 2 di fortnite Ed è stato uno dei posti più belli a parer mio Perché era così bello e misterioso E pensare che adesso la grotta sia chiusa Mi mette una tristezza assurda raga Prima eravamo sempre lì anche con Traster Ragazzi era davvero un posto super super figo C'erano gli scagnozzi C'era il boss C'era il cavo dove prendere le armi mitiche Raga era davvero davvero fighissima come stagione quella Fatemi sapere se mi mancano anche voi le armi mitiche Perché a me mancano un casino Anche così ok ce ne sono un po' questa stagione Ma non ci sono i bunker Non ci sono le chiavi Non ci sono gli scagnozzi Raga mi manca un po' tutto Eccoci qua siamo quasi arrivati alla grotta ragazzi Perché dovete sapere che questa grotta È proprio la grotta che c'era nella stagione 2 Non è mai stata tolta E io non capisco il motivo Perché tenerla se la tieni chiusa Cioè nel senso falla scomparire dalla mappa Allora non ha senso che la tieni completamente chiusa Con solamente due piscine giganti qui Qual è il senso raga Cioè nel senso Non c'è un senso È questo il senso forse Che non c'è un senso a tutto ciò Non lo so ragazzi Non lo so Comunque queste sono le due piscine Queste erano anche le due entrate alla grotta Qui ci potevi andare con l'elicottero Raga me lo ricordo benissimo Mentre lì ci andavi con una ventola e un condotto ad aria Il boss era Brutus appunto Ed oggi dato che Brutus è aggiunto su Fortnite Come un personaggio che può parlare Andiamo a chiedergli se magari sa qualcosa che noi non sappiamo Ecco magari ragazzi ci svelerà il motivo per cui questa porta La porta della grotta È chiusa Magari riusciamo a farcelo dire Magari ce lo dirà Magari il gioco ci dirà Beninti Ecco la chiave vai a aprirla Non lo so ragazzi Sono davvero curioso Quindi non vedo l'ora Non vedo l'ora ragazzi Andarlo a scoprire Lasciate un mi piace Mi raccomando Iscrivetevi al canale Andiamo subito da Brutus Andiamo a chiedergli il tutto ragazzi Sono davvero curiosissimo Non vedo l'ora Di scoprire che cosa succederà Dobbiamo arrivarci con il motoscafo però Perché è abbastanza lontano Caro Brutus Ti stiamo aspettando Mi raccomando Non ci deludere E facci scoprire tutti i segreti di Fortnite Perché non vediamo l'ora Quindi stiamo aspettando tutti Già lo vediamo ragazzi Già vediamo il cosino dei personaggi Di questa stagione Che sinceramente Non so neanche come chiamarli Perché chiamarli personaggi Mi sembra un po' riduttivo Chiamarli boss Mi sembra un po' accessivo Li chiameremo Non lo so Non so come chiamarli Regà Cioè Come li chiamate Fatemelo sapere Regà Perché io non ho minimamente idea Di come chiamarli Comunque è stato di fatto Che questo boss È stato addirittura lutato Mi sa Eh si ragazzi È stato lutato Ma non ci credo C'è stato un nemico Prima di me E non ha fatto fuori Il nostro cano Brutus Brutus Eccoci qua finalmente Che dici Brutus Che tra l'altro ragazzi Sembra Vincenzo Non so per chi lo conoscesse Ma sembra proprio Cioè Vincenzo ragazzi Comunque Siamo qui Per scoprire il segreto Di Brutus Direi 3 2 1 Andiamo a parlarci Vediamo il dialogo Il segreto Oh mio dio Ok scherzo ragazzi Ovviamente Non ha detto quello Ma ha detto Non vuoi Non facciamo perdere Non ti conviene Farmi perdere tempo Regà Oh mio dio Vediamo Allora Brutus Ha vari 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 slot Da fare Vediamo che Cosa ha Ha duello Sfida Brutus E ti da come ricompensa Una minicanna Quindi potremmo sfidare E prenderci la minicanna Assegna un'arma potenziabile Ti da una minicanna Comprandola Elimita il giocatore nemico La taglia E completa una taglia Quindi ti da un botto di oro Questa Questo personaggio di Brutus Però ragazzi Non ne posso più Di questa Peste Quale peste? Forse il nemico Che abbiamo fatto la taglia Oh mio dio Che figata Brutus Va bene va bene va bene Ma non ci dici niente Della tua grotta Della tua amata grotta Guarda Forse tu non la vedi Ma si trova proprio qui giù Guarda Io ti rompo il muro Per fartela vedere Brutus Guarda Si trova proprio Lagiù la tua grotta Eh sì ma non mi guardare Si trova lì giù La tua grotta Ti sto dicendo Vai Sei libero Puoi andare Proviamo a riparlare Regà Magari sblocchiamo Un altro dialogo No Non è possibile Brutus Dai vieni con me Vieni con me Seguimi Sono Mita Sono il tuo amico Della stagione 2 Dai Brutus Non farmi arrabbiare Che ti uccido No regà Dobbiamo uccidere niente No sta collaborando Non sta collaborando Via 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 Facciamolo fuori Facciamolo fuori ragazzi Perché non sta collaborando Brutus In questo momento Non era molto collaborativo Diciamo Ecco Il fatto che Non ci abbia detto Della grotta Ragazzi un po' mi ha stupito Magari poteva dirci anche Mi manca la mia grotta Non lo so Ho trovato le chiavi Per la grotta Per entrarci Dai cavolo Va bene va bene regà Non è un problema Adesso ci andremo a vincere La partita In un modo molto molto Assurdo direi Utilizzando solamente Niente In realtà Utilizzeremo tutto Come se fosse una partita normale Ma faremo finta Di essere Mida Regà Infatti siamo Guardate guardate Abbiamo tutte le armi d'ora Abbiamo la skin di Mida Dovremmo onorare Al massimo Brutus Che abbiamo brutalmente ucciso Tra l'altro E farò E vincere la partita Dai la vinceremo per Brutus Fatemi sapere Se questa serie Di scoprire Di allo Che si crede vi piacciono Perché lo potremmo fare Con quasi tutti I caratteri Della mappa Ovviamente quelli più importanti E quelli che hanno Un collegamento Con la storia di Fortnite E non magari Delle skin a caso Oh cavolo ragazzi Siamo anche sotto tiro adesso Non ci bastava Il fatto che avevamo Già una taglia assegnata Che però non mi vado A andare a uccidere Ci hanno dato anche Una minaccia Attenzione Attenzione Eh regà Ve lo dico Quella potrebbe essere La nostra taglia Oh mio dio Che partita sta uscendo fuori Brutus Non ci ha detto nulla Quel cattivone Quindi non ci resta Che vincere la partita Regà Mi raccomando Massimo supporto per questi Video Sempre nuovi Ma il camion L'ha impennato Regà Cerchiamo subito Un nemico Regà Eccoli qua Si trova qui giù Se non sbaglio Sì 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 Vai andiamo Andiamo Si trova a nord Regà Andiamo Andiamoci con il camion No ci spara uno Anche da dietro Dai ma non è possibile Ok il camion Ha ancora un po' di vita Il camion Ha ancora un po' di vita Può sopravvivere ancora un po' Può sopravvivere ancora un po' Non più Non più Non più Non più Non più Dovremmo poi dare Come i vecchi tempi ragazzi Senza l'utilizzo di macchinari Quello ha sparato al camion Insistentemente Oh mio dio ragazzi Ma questo è un tryharder assurdo Guardate come spara Mamma mia ma divertiti su sto gioco Non fare le costruzioni Che poi Guarda guardate ragazzi Guardate Guardate Ma dai ma non si può neanche Non si può neanche divertire Su questo gioco Che arrivano questi E ti uccidono Come se fossero dei pro Cioè come se stesse giocando Un torno mondiale Guardate Guardate Skin del calciatore Raga Costruzioni a go go E dai raga Non si può più fare una partita Su fortnite Se non sei un pro Ma non è possibile questa cosa Mi scusi Mi scusi il gioco Ma io come faccio a vincere una partita Se c'è questa gente che gioca Me lo immagino lì Con mouse e tastiere Ragazzi L'asciugamanino Che ogni tanto si asciuga il sudore La redbull per bere Per caricarsi Vabbè raga dai Ma non è possibile giocare così Io volevo solamente scoprire Il segreto di brutus Vabbè dai che dirvi Almeno abbiamo scoperto qualcosa Durante questo video Abbiamo scoperto Sia che brutus Non ci dice purtroppo Nessun segreto Sia che La gente che gioca a fortnite È diventata un po' Troppo Pro Ecco diciamo Un po' troppo ragazzi Sì 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 Calmatevi quando giocate Ci stiamo solamente divertendo Io non sono capace A fare quelle cose che fate voi Quindi Ecco forse è colpa mia Che non sono capace Ma fa nulla Fa nulla Ci vediamo domani In un uoissimo video In un uoissimo live Raga Grazie mille a tutti per la visione Vi ricordo 100.000 iscritti Due sorprese belle a tutti E grazie per la visione